Susanna Bercotto, Radio R.C.S. Verona, ti devi informare sui conduttori di Radio R.C.S. L'ho fatto apposta, devi cambiare, lo leggo anche qua, quindi... Te me l'hai servita sul canto. L'ho fatto apposta, che non scherzo. Allora, questo grande artista napoletano che vive in Svizzera, però, questa sera ha il premio Lucio Dalla. Raccontaci un po' di te, Luca. Ma, raccontare di me in pochi secondi è un po' difficile. Comunque, il viaggio musicale dura da una ventina d'anni, quindi fino a portarci ai giorni d'oggi a premio Lucio Dalla. E mi fa piacere che sia arrivato anche questo invito. E questa sera cosa canti? Ah, canterò un mio brano, speravo che, tratto da un mio album precedente. E quindi faremo questo pezzo che, secondo me, è anche adatto all'ambiente. Beh, in questo contesto, che è veramente, facciamo mettere solo un po' di soffitto. Veramente spettacolare, unico, veramente bello, bello. Bene, dei finalisti di alto livello, abbiamo sentito le prove, un grande ospite che è Dario Baldandazzo. Assolutamente sì. E un grande patron che è Maurizio Dalla. Assolutamente sì, infatti ringrazio Maurizio di questo invito. e poi il, non so se di là già ora sta chicca, ma in realtà Lucio Dalla. Ma diciamola. Lucio Dalla, Maurizio lo sa, è l'amico di mio papà. Stavamo facendo pure una cosa insieme, poi purtroppo non c'è stato tempo di concludere un progetto con Lucio. Fa niente, vuol dire che devo andare così. E quindi, però ora mio papà e Lucio stanno a fumare insieme, nel là di là. Perché loro erano grandi fumatori. Un saluto glielo mandiamo. Assolutamente. Ciao Lucio, ciao papà. Grazie. Buona finale del premio Lucio Dalla Sanremo. Ma tu devi salutare gli amici di Radio RCS Verona. Allora, radio, allora, radio ascoltatori di Radio RCS di Verona. Ok, prima o poi ci vediamo pure a Verona. Vi mando un caro saluto, un bacio da Luca Maris. Ciao.